Ciao ragazzi sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Ghost of Tsushima pronti ad andare dal fabbro affranto sperando che sia ancora vivo allora questo episodio sarà ancora privo di taglio affinché voi possiate anche eventualmente assistere a imprevisti colpi di scena, sorprese durante l'esplorazione se poi oggi non dovesse esserci niente di significativo o particolarmente importante magari dai prossimi episodi io vi taglierò le parti secondarie e vi lascerò esclusivamente le attività primarie che non credo siano poche peraltro mi pare di comprendere che le secondarie sono quasi tutte delimitate e segnalate da i fumi bianchi che tradisce un po' la loro presenza con largo anticipo eeeh chi c'è qua? è vivo? salve ah no non pensavo ci fosse modo di non c'è modo ok di interagire chi è? chi è? ahhh sono sono arrivati tutti bene beh le le i combattimenti a cavallo mi sono un po' problematici se la picchiano questi eh vabbè ma non ok vi spaventate abbastanza da fuggire? temo di no quanti siete di grazia? non è non è fattibile non siamo ancora abbastanza forti per affrontare gruppi di nemici così numerosi mamma mia che brutalità eeeh in maniera così all'acqua di rose ecco mettiamola così dobbiamo 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 gioco forza farci gli affaracci nostri per cui i miei carissimi e amatissimi pescatori credo che faranno una brutta fine perché noi non siamo in grado di difendere comunque le 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 fasi notturne sono di una bellezza pazzesca il gioco è caratterizzato per il momento da degli alti e bassi tecnici piuttosto profondi nel senso che io penso a che ne so questi panorami meravigliosi sconvolgenti poi penso alle animazioni facciali che non sono proprio così perfette ecco mettiamola così eeeh e la cosa un po' mi mi dispiace perché artisticamente il gioco è pazzesco è è Oh no! Ok Sono finiti? Sì Diciamo che se sfruttiamo tutto l'arsenale a disposizione del nostro gin Si riesce a fare A fare tanto In alternativa È un po' un problema Allora qui c'è il fumo bianco Capiamo un po' che cosa Che cosa nasconde il fumo bianco Cosa fanno? Cosa fa? Ah si allena Ma quale confronto? Ma basta con questi confronti Come fai a vedermi? Di grazia Ah ecco Ok Posso fare l'infame per una volta? Mi è concesso Diciamo un po' il fantasma Giaco ce lo permette Allora l'individuo osserva il capo dei mongoli Che sia lui? Capo osservato Ah Se io lo elimino mi dà comunque il punto? Cioè me ne dà due? Allora adesso aspettiamo che l'arciere faccia il giro completo E poi tentiamo Eccoci qua Ah colpo critico Ma non Ma non netto Ahia Ok Mi dà due punti Bene Quindi l'osservazione non esclude L'eliminazione postuma Ok Ok Ma stai zitto Stai Ok Ok Dai 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 Si può fare Quanti ce ne stanno ancora? Uno E due Ok Ok là ce n'è uno che adesso se G no ha visto i suoi compagni morti avrei potuto sfruttare ho cominciato che avessi visto me e invece e invece no ferro acciaio allora ma ma tipo no speravo che ci fosse che ci fosse un modo per per attirarli senza chiamare il cavallo ma no calma ok ci sto prendendo un po' la mano piano piano uccido il mio con la parata perfetta è una parola qui non c'è niente ma giusto per capire un po' quindi i fumi bianchi stanno a indicare stanno a indicare prevalentemente gli avampusti a quanto sembra non dargli tregua non dargli tregua non dargli tregua su va oh io questo volevo volevo vederti ok dov'è che sei maledetto ok era l'ultimo si l'agenda si accresce evviva la speranza del popolo ok una nuova arma spettrale bomba di polvere nera usa l2 r2 per lanciare un esplosivo che danneggia e fa abbarcolare i nemici vicini bomba fumogena usa r1 per spigionare ai tuoi piedi una nuvola di fumo denso che ti occulta ai nemici bello bomba adesiva usa l più r1 per lanciare una bomba intrisa di pesce che si attaccherà al nemico prima di esplodere bello campanellino usa l2 r2 per lanciare un campanellino che attirà la tensione del nemico ma vi dirò vi dirò forse bomba adesiva fa una bella botta questa la vedo particolarmente intrigante per gruppi di nemici ok più un punto tecnica quindi il lancio riparato oppure ok è tosta e scegliere dove andare a parare è tosta eeeh allora devia frecce parata determinata parata terrificante eeeh 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 pare i colpi di lancio non bloccabili io non so se questo potrebbe rivelarsi utile col tempo però penso di sì eeeh vento della salute vabbè queste le possiamo sbloccare poi non lo so i dubbi atroci i kunai sembrano particolarmente utili se la fumata si va colpisce in pieno elimina il bersaglio prova con esplosione più ampia infligge danni maggiori a nemici coinvolti figata serie di confronti un attimino in che modo serie di confronti dai serie di confronti mi piace visto che è una cosa su cui puntiamo spesso cambiare l'arma a fuoco rapido usa il d-pad mentre la trattieni mentre la trattieni mentre la trattieni per cambiare l'arma spettrale aaaah ok vabbè sono magnanimo sono magnanimo ma non te ci abituà eeeh dunque 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 ferro preso ferro e provviste munizioni piene vabbè qua abbiamo definitivamente ripulito per cui io devo smetterla di premere il touchpad quando finisco di fare le cose eeeh quindi diciamo che non sembrerebbe esserci niente di particolare se non appunto una continua e ripetuta liberazione delle aree per favorire lo sblocco dei punti d'accesso ecco ma il concetto del eeeh possono accadere cose integrate nella trama principale non sembra questo il tipo di gioco a proporre una cosa simile è tutto abbastanza a compartimenti stagna ad alcuni potrà piacere ad altri no io personalmente non non disdegno troppo questo tipo di approccio perché ti dà anche modo di gestire alcuni aspetti con più calma e nel caso specifico di portare avanti una serie alternando cose a telecamere accese per le primarie cose a telecamere spette per le secondarie senza il timore di perdere qualcosa ad ogni modo adesso approfondiamo ulteriormente così però intanto salviamo sto fabbro e cerchiamo di capire che cosa ci regalerà comunque la sensazione è che sia un gioco molto dipendente dal suo sistema di progressione e che la progressione stessa rappresenta uno degli elementi più interessati della produzione cioè se ti lasci catturare da quello il gioco ti prende se non ti piacciono i sistemi di progressione con potenziamento progressivo è difficile che un titolo come questo possa appassionare più di tanto io ho fatto un ossessivo compulsivo delle risorse della telesplorazione allora ci siamo praticamente siamo arrivati Ah sciwa, ケンジ 信頼 e anzimino Tauzi de saca uri Sonde, 島 I van no yamas Takao Aza Moura kara tasuける no ni Te o kaしてくれるんだって sa Asoco ha mohco da laké Mura o nottorareta ka Ano kabeo koe elu no wanghi da na 実は, 酒 no hako bi te wa hairel Finalmente un personaggio un pochino fuori da quest'aura di perfezione enorme disciplina che spezzi un po' C'è un po' Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Pensavo che ci avrebbero fatto scegliere Sapete? Grazie a tutti 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 Mamma mia che rischio Grazie a tutti Due episodi e sono due Mamma mia il colpo Due missioni e due fasi di indagine diciamo Lo vedo Lo vedo Sta scappando chi? Lo vedo Ma per saltarmi Managgia la miseria La parola Con quello che fissa Non la vedo benissimissimo L'obbettivo è lì Sì però che angoscia Sì però che angoscia C'è veramente Ok Non so come ma ce l'abbiamo fatta Non so come Non lo farà Non lo farà Usa il cervello Usa il cervello Usa il cervello Di quanto Poi ce lo racconti Poi 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 Perchè ho aperto quella cosa non si sa Tu non mi hai visto Ok Niente Niente Io non Allora Evita che mi venga dato l'allarme E vabbè E fin qui Guardate di là E per andare di là Jhin E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Io sopra solo Se non ti chiami Tony Stark E' difficile che tu rieschi a sopravvivere Niente E' un'altra cosa Non so come non so come uscirne E' complicato E' veramente complicato questo punto Perchè sono veramente veramente tanti Sono veramente veramente tanti Vabbè questo Vabbè questo Gli cambiiamo la sua vozzale E vabbè Quest'altro pure Poi Non è successo niente Non è successo niente Tra nessuno Non ti preoccupare Ok Ti prego ti prego ti prego ti prego Più veloce 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 Taka! ...è mettere! Taka! ... Non mi non fare niente ... Ne sei parlare ... Sì, tu ti viese v экспogliere ... È che così... Non lo so, non lo so Non lo so Questo è un sacchiazino Lo so Lo so Taka Lo so Mi chiedi Mi chiedi Mi chiedi Mi chiederei Allora Forza e coraggio Taka Animo, animo Andiamo Vabbè Potremmo anche correre a questo punto Ma quale confronto? Ma falli andare via tranquilli Con st'onore sta Basta Eh Sembra che Sembra che stai a fare il coatto Invece che So Venti persone Solo, su Eh Ma Ma quale confronto? Ma che... Basta incoraggiarmi a farla finita Eh Ma sono andando alla parte giusta In tutto ciò Si Ma per un attimo ho avuto il dubbio Oh, ci siamo, dai C'è Ma che Sì Ma che Sì 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 Ma che Sì 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 Beh Sì Sì Ma è un attimo Quello Che Per quanto trovi tutta l'infrastruttura molto ben fatta, non ci sono missioni particolarmente originali nella struttura. È tutto molto classico. È tutto. Grazie a tutti Dovere, dovere Ok La nostra leggenda cresce Un pochino C'è ancora tanta strada da fare però Allora A questo punto Chissà quanti anni mi ci vorranno Per smettere di premere il touchpad Ogni volta che voglio andare qui Allora I cappelli di paglia sono Ronin mercenari dai modi alquanto rozzi Ma le loro lame potrebbero servirmi per salvare Lord Shimura Devo cercarli E scoprire se sono in cerca di lavoro Pare che diano la caccia ai mongoli nelle pratterie di Kishi Perché no Perché no Nuovo tono disponibile Se scendo da qui mi spacco Completamente Non è il caso Però scusate Noi abbiamo sbloccato adesso Il fratello di Yuna È finalmente salvo Ma dopo la nostra foglia ci siamo dovuti separare Devo assicurarmi che abbiano raggiunto la città di Komatsu Se Taka ha avuto modo di recuperare le forze Potrebbe riuscire a fabbricarmi uno strumento Per scalare le mura del castello di Kaneda Dove ha prigionato mio zio Ok E al di là di questo Qui abbiamo doni e potenziamenti Qui abbiamo il viaggio rapido disponibile Qui è una secondaria sull'allieva Ma noi adesso Qui c'è affari in sospeso Sono riuscito a liberare Taka dalla baia di Azamo Ma c'è ancora altra gente Prigionera lì Non avrò piacere finché non riuscirò a soccorrerli Cuoio ha munito il milione della difesa Se no c'è Servizio del popolo Racconto di Kenji Pare che la fattoria di questa zona abbia avuto dei problemi Voglio assicurarmi che i contadini stiano bene Quindi è un insieme di primarie e secondarie In maniera del tutto casuale Questo luogo ancora non scoperto Che cosa ci offre? Allora Intanto Cavallo Voglio rendermi conto anche delle attività Quelle marginali Cosiddette marginali Per capire un po' Come impostare poi il resto della serie Vorrei tanto confrontarmi con voi Per capire cosa vi piacerebbe di più Ma dovrò andare Ovviamente Ovviamente E' su che mi sta Suggerendo di andare Allora aspetta Che luogo è? Uh La sorgente termale Bene Rifletto su... I samurai caduti La comodità Comoda Mi ha morto Mi ha morto Mi ha morto ok allora io direi che noi a questo punto potremmo andare a provare così per renderci conto la bontà di una secondaria che peraltro si lega a doppio filo a quello che abbiamo appena fatto oggi cioè diamo continuità a quello che si è fatto e così perché allora le missioni primarie hanno dimostrato di avere un'impostazione molto molto classica non particolarmente originale o entusiasmante rispetto alla stragrande maggioranza degli open world di questo genere quindi vorrei rendermi conto se magari le secondarie possono rappresentare in questo senso una qualche tipo di variazione sul tema credo di no onestamente a naso cioè sulle primarie non hanno spinto tanto non hanno usato tanto è difficile che ciò sia accaduto con le missioni secondarie ma non è detto appunto che ciò non accada non sia accaduto confronto con chi ah è uno solo nessuno si è spaventato che abbia steso quel tizio nessuno ha fregato che era anch'io onestamente calma posso morire ora quello ci ha ripensato perché sono troppo lontano dalla sua zona di competenza e quindi è tornato indietro grazie molto umano lei ma io in questo momento col cinghiale non ci avrei niente a che fare ma che ma che scena mi stavo confrontando con l'or signori scusi no l'or signori ma ma mi hanno ma mi hanno abbandonato così cosa fanno vabbè non l'ho capita molto lì a a sto giro mi hanno mi hanno un attimino mi hanno un attimino così spiazzato ok 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 E quindi ci ha dato Un nuovo indizio qua Brucia la base dei taglialegna Potremmo andare a fare questo Seguiamo in maniera organica ciò che accade Forse è il modo migliore per godersi un pochino L'esperienza Considerato che appunto Non brilla per originalità Non brilla per IA Magari possiamo trovare un modo per Dargli La giusta chiave di lettura Per godercelo al meglio Ha dei lati negativamente positivi E l'atmosfera in generale è di un fascino tale Che almeno a me Giustifica tutta una run Senza alcun tipo di problema Anche che insomma Ve lo avrò recensito a questo punto Quando voi avrete visto sto video La recensione sarà già online da un bel pezzo Quindi I bei paradossi temporali Di questo lavoro Non mi ci abituerò mai Dunque Allora la base dei taglialegna La base dei taglialegna È là Ok Allora tocca capire La via d'accesso Ma basta Con questi confronti Gin Fai pace col tuo passato Su T'ha rovinato zio Proprio in maniera In maniera allucinante Ok Ok E dunque Dai zitto Che non è successo niente Non t'agita Là c'è il cavo Sono Tre Di qua Eh Ehm Hmm Ok Facciamo di depulirla tutta Vabbè Non ti piace fare cose comode Abbiamo capito che Certe cose ahimè non si possono Neanche tentare a sto gioco Va bene uguale Non posso Credere a quello che è appena successo Finito le frecce Capito le frecce Dai dai Ok Non avrei mai voluto lanciarlo in realtà Dunque Vogliamo provare questa meravigliosa Bomba adesiva Che mi sembra Sono tanterrimi Allora io sfrutto Il Quanti sono Sfrutto il fatto che loro Fuori dal loro habitat Abbiano delle difficoltà piuttosto evidenti A seguire il mio Jin Cominciate ad essere un attimo troppi Cominciate ad essere Ok Ah ma arrivi Mi dovete dare un attimo di tregua Perché io non ce la faccio Vabbè ma non prendetevi proprio in parola in parola in parola Diamine Era una richiesta così garbata Ma non mi aspettavo che fosse accolta di buon grado da tutta la truppa Vabbè Grazie Molto umani Grazie Apprezzo moltissimo Quindi adesso vanno Si gioca a nascondire Adesso vanno a nascondersi E contano E poi Ritornano a cercarmi Va bene No uno ha deciso di non partecipare al gioco Al gioco del nascondino Ok Ci avete bisogno di uno bravo tutti quanti Vi ho riattivato rientrando dentro alla zona da voi coperta Ok 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 Ho visto Ok IA Veramente Veramente Agghiacciante Ok Ehm Ah Lui era cominciato ad allenarsi come se nulla fosse No In realtà no Maia Se me dia quello da pieno va a salvare il peseroso Bello Ok Il loro campo esattamente cosa sta facendo Corre avanti e indietro Bello Bello Santissimo Kunai Mi sarei grato se mi facessi capire Dov'è il mio nemico Dovrebbero essere gli ultimi Vessillo preso Provviste Chi manca La ce ne sono due Tre Allora Ma passa in mezzo ai rovi Mannaggia la morte Sta facendo un attimino Un attimino complicato Guarda quanti so Ma guarda quanti so Ma io Una Le varie skill che regolano la possibilità di parare i colpi enormemente imparabili sono fondamentali Mi sarebbe Una Un'un'un'un podi Un'un'un Un'un'un Dai, dai, dai Sono diventato una macchina Sono diventato Sono diventato una macchina Sono diventato Ok Mamma mia che parto Quanti ne ho stesi E quanti ne mancano Soprattutto, ancora Allora Provviste Testimonianze Non è il momento di leggerle Ok Poi I vessilli Eh no I vessilli ancora diventano stagli Allora Sarete così gentili Da segnalarmeli O Sembrerebbe Di sì Uno Dov'è l'ultimo vessillo Sto qui Sto qui Dove vai Quello in teoria Dovrebbe essere l'ultimo Ho totalmente perso Una cosa che mi è passato Di fianco Ma ero sullo scatto Ok Estruggire scorte Di polvere nera Ehm Due delle armi Di grazia Queste Una riete Sono in difficoltà Ci siamo Facciamola finita Mi levo Mi levo Mi levo Ho presa piena Vero No Che parto Che parto Ragazzi Vabbè Direi Direi che ne è valsa la pena Dunque Ragazzi Io direi che visto L'andazzo Credo che sia Punto tecnica acquisita Nuove tecniche disponibili Che cosa ho acquisito Di preciso Allora Oro intanto guadagnato Ma Non mi è ben chiaro Ancora cosa poterci fare Ditemi 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 Intanto qua abbiamo sbloccato La zona Con tutta una serie Di punti Aggiuntivi Allora Io Io per adesso Vi dico Mi farò Un pochino di cose A tricamere spente Per vedere un po' I luoghi Qua intorno Raccoglierò un po' De risorse E mi preparerò Per affrontare Le attività primarie Poi In base a quello che succederà Nei prossimi episodi Decideremo In che modo Svilupparla Però appunto Credo che sia Uno di quei prodotti In cui adesso Fatte le prime Le prime fasi Di scoperta Di combattimento Di liberazione Tutto diventerebbe Estremamente ridondante Con il tempo E siccome immagino Che il gioco Sarà abbastanza duraturo Voglio Farvi una serie Che sia Godibile E che non risulti Troppo Troppo Ripetitiva Per chi non lo gioca Ma lo deve solamente guardare Per cui credo che mi orienterò Principalmente sulle attività primarie Lasciando poi I momenti delle camere spente Le attività di Ripetitura Delle zone Eccetera eccetera In modo tale da non Appesantirvi troppo Nella visione Poi chiaramente Dovessero esserci Dei cambi di ritmo Particolamente repentini Torneremo sui nostri passi E in corso d'opera Magari riprenderemo Con le attività di controllo Ma per adesso Credo che sia un gioco adatto A questo stile Di serie Per cui ragazzi Niente Io per adesso vi saluto Vi do appuntamento a brevissimo E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima